che hanno fatto un bel lavoro con Golden Vocalist. Oggi vediamo, certo oggi vediamo se c'è un limite a questo Golden, quando si sta andando agli ordini dello starter. Tutto è pronto? Ci siamo, fuori gli uomini, via Cappucci, a posto dietro. Partiti! Hanno steccato il proprio Golden Vocalist con Kim Superstar, all'esterno invece Battle Command prima e poi a largo... C'è The Way The Wind Blows con Ektifa in coda, Bonnie Acclamation, in caso mai Kim Superstar se la gioca davanti, da favorito, comunque da appoggiato Golden Vocalist, secondo in corda con all'esterno The Way The Wind Blows, poi allo steccato Battle Command con di fuori a largo di tutti Ektifa che supera Bonnie Acclamation in coda, caso mai Kim Superstar è in vantaggio, arriva Ektifa a coprire Golden Vocalist, The Way The Wind Blows, Battle Command, sesto Eboni Acclamation in coda, caso mai in pieno bosco, quando si viaggia per coppie, davanti Kim Superstar e Ektifa, i due allungano intanto da Golden Vocalist che ha di fuori anche The Way The Wind Blows, in corda Battle Command con di fuori Bonnie Acclamation, in coda, caso mai allungano ancora i due davanti, Kim Superstar e Ektifa, inseguiti da Golden Vocalist, da The Way The Wind Blows, è importante il vantaggio dei due davanti, che io calcolo in 3-4 lunghezze, con Kim Superstar arroccato in corda, al suo esterno Ektifa in mezzo alla pista, Golden Vocalist in anticipo lungo, su The Way The Wind Blows, Bonnie Acclamation, like tutti, caso mai, con Kim Superstar, cala Ektifa, all'esterno The Way The Wind Blows, arriva anche caso mai, con Casomai che prova ad andare in prima linea, appoggiando su The Way The Wind Blows, i due vanno a lottare con Kim Superstar, poi si ingamba anche il nonno, Bonnie Acclamation, all'arrivo di tutti lo scatto di Bonnie, con Casomai, Casomai e Bonnie, arriva Bonnie, e arriva e vince Bonnie Acclamation, che stampa Casomai, come va questo cavallo, Bonnie Acclamation, nel finale copre Casomai e Kim Superstar, 2-1, il probabile ordine d'arrivo, che rivediamo dal basso, e terzo all'interno, dovrebbe uso il condizionale, essere rimasto Kim Superstar, del quale non vedo il muso, quarto Battle Command, quinto The Way The Wind Blows, quindi potrebbe essere ancora, Bonnie Acclamation, a segno su Casomai, a questo punto ben serviti dal treno di corsa, Casomai e Bonnie Acclamation, che si sono disputati il finale, 2-1, e poi terzo eventualmente, Kim Superstar, la quota del vincente, 4-18, Enrico a te la linea. ci sono